Non c'era niente di vero. Tu eri vero. Voglio parlare con lui. Trumann. Parla. Ti ascolto. Chi sei tu? Sono il creatore di uno show televisivo che dà speranza, gioia ed esalta milioni di persone. E io chi sono? Tu sei la star. Non c'era niente di vero. Tu eri vero. Per questo era così bello guardarti. Ascoltami, Trumann. Là fuori non troverai più verità di quanta non esista nel mondo che ho creato per te. Le stesse ipocrisie. Gli stessi inganni. Ma nel mio mondo tu non hai niente da temere. Io ti conosco meglio di te stesso. non ho una telecamera nella testa. Tu hai paura. per questo non puoi andare via. Sta tranquillo. Ti capisco. ho seguito ogni istante della tua vita. Ho seguito quando sei nato. ho seguito quando hai mosso i tuoi primi passi. Ho seguito il tuo primo giorno di scuola. il momento in cui hai perso il primo dentino. Come fai a mandartene? Ti prego, signore. Il tuo posto è qui. Ce lo farai. Con me. Parlami. Di qualcosa. Accidenti, Trumann. Cristo, vuoi parlare? Sei in televisione. Sei in diretta mondiale. Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Già. Già! 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 Sei troppo forte! Poi! Poi si trovi! Interrompi la trasmissione. Sì, signore. Vuoi un'altra fetta? No, basta così. Che danno adesso? Sì, vediamo che danno. Dov'è la guida TV? Dov'è la guida TV?